Si chiama Soave e Delicious, edita dalla Chroma SRL di Grotta Mare, col modello di business progettato dalla Global Consulting di Teramo ed è una nuova iniziativa editoriale patrocinata dalle regioni Abruzzo, Marche ed Umbria che si propone di offrire ai produttori di qualità dell'agroalimentare e vidi vinicoltura una vetrina per raggiungere, se non addirittura aggredire, segmenti di mercato del Nord Italia. Un sossegno dunque in una fase notoriamente non facile. Ci siamo messi in testa di dare voce a questi produttori e far capire loro che uniti e racchiusi in un unico mezzo dalle potenzialità molto alte, 200.000 copie distribuite personalmente da 200 venditori presso le città più importanti e più ricche d'Italia, contiamo di raggiungere circa un milione di contatti. Anche a livello percentuale riusciremo a dare quasi una garanzia di vendere i prodotti di queste aziende in modo immediato con un portale veramente snello e veramente innovativo. Suave e Delicious sarà distribuito gratuitamente e nel frattempo sarà presentato ufficialmente domani mattina a Civitella del Tronto nel corso di un convegno a cui parteciperà Massimiliano Ossini, conduttore di linea verde, trasmissione che il prossimo 25 ottobre sarà dedicata all'Abruzzo parlando anche del nuovo magazine. È una rivista anche con forte valore culturale, il caporedattore Pierfrancesco Lisi, un enologo che è esperto del settore, parteciperà domani alla convention, parlerà del commercio di questi prodotti anche attraverso i nostri mezzi più evoluti perché oltre alla rivista abbiamo anche un sito internet che sarà uno strumento per raccogliere gli acquisti.